Perché è importante questa giornata, perché è importante l'approccio di genere? Perché credo che sia fondamentale ricordare le donne quanto gli screening e la prevenzione possano ridurre l'incidenza delle neoplasie, penso al tumore della mammella ma anche al tumore dell'utero. In Italia ci sono centri di eccellenza dedicati in particolare al tumore della mammella e quindi è fondamentale l'adesione agli screening e superare le tante differenze che purtroppo ci sono da questo punto di vista ancora tra regione e regione. Grazie Ministro.